Quanto è il tuo nome? Sono Barbara. Barbara, una cosa che vorresti tanto che questa expo portasse per Milano? Partecipazione, partecipazione dei cittadini e un avvicinamento delle istituzioni veramente alla società civile. Ma infatti mi sembra che da un certo punto di vista questi stati generali siano un piccolo passo, magari con tante cose da migliorare, però un piccolo passo verso questa direzione e poi apertura anche alle altre culture, incontri, gente che viaggia, gente che viene a vedere l'expo, magari si possono creare nuove relazioni e da qui possono partire anche progettualità.